Altro giro, altra corsa e altro libro. È appena uscito, Guida ai videogiochi, tecniche, storie, immaginari. Pubblicato da Odoia e scritto da me medesimo. Io sono Francesco Toniolo, sono un professore universitario, esperto di videogiochi. E questo libro nasce, tra le altre cose, da quella che è la mia esperienza di insegnamento in varie università e accademie negli ultimi anni. In corsi legati ai videogiochi, o comunque di carattere più ampio, ma dove c'era di mezzo anche il medium videoludico, e sono andato a prendere, a selezionare quelli che erano alcuni temi, alcuni argomenti che ho visto essere di particolare interesse, su cui si potevano costruire dei discorsi. E quindi adesso vado un po' a spiegarvi che cos'è questa cosa, questo oggetto, questo libro. Tra l'altro sarebbe anche bello, come si fa in questi casi, in questi video, mostrarvi fisicamente la mia copia del libro, la copia personale, che ancora non ho. Quindi al suo posto vi potete beccare Cthulhu, il signore delle coccole, che è molto carino e puccioso, e non è in vendita. A differenza del mio libro, che è apparso probabilmente in questi giorni sugli store online, se così non fosse apparirà brevissimo, a Lucca Comics ci sarà la sua anche presentazione, prima volta che appare fisicamente. Io sarò ogni tanto, tra l'altro, allo stand dell'editore. Non in orari fissi, ogni tanto però magari passo di lì, mi fermo un pochino, quindi se siete in giro cercate Odoglia, scriviamolo anche Odoglia, ecco, e magari mi trovate lì, così potete sfogliare il libro, acquistarlo, se sono lì presente vi faccio una firmettina, ovviamente con la mia brutta calligrafia, quindi a vostro rischio e pericolo, però le persone desiderano una mia firma nonostante questo caveat, quindi insomma siete avvisati, e poi appunto ci possiamo fare due chiacchiere se sono lì presente. Dunque, guida ai videogiochi. Questo titolo può essere preso in tanti modi diversi, diciamo che, come spiega già meglio quello che è il sottotitolo, tecniche storie immaginari, una guida a quelli che sono appunto dei temi, degli argomenti culturalmente rilevanti intorno al medium videoludico. Per cui non è la guida nel senso mettiamoci a vedere tutti i generi videoludici uno per uno, non è questa cosa qui, non è neanche facciamo la storia dei videogiochi super riassunta insieme a un mix di altre cose, perché intanto ovviamente capite che una cosa a 360 gradi davvero completa in quell'ottica richiederebbe una biblioteca, non un volume. E poi ci sono già libri che vanno in quella direzione, alcuni tra l'altro ben fatti, sono delle belle guide riassuntive, altri un po' meno, ma appunto è una cosa diversa quella che volevo proporre. Volevo proporre qualcosa che leggendolo andasse sia a introdurci al mondo dei videogiochi, che facesse una guida in modo sia da portare una persona che magari non conosce tantissimo l'ambito, ma ha interesse a scoprire un po' di più cose varie, ma anche chi è già molto addentro a dire rivediamo quello che è il mondo videoludico che conosco da un punto di vista differente, da una prospettiva culturalmente anche un po' più avanzata. E quindi il libro è suddiviso in sezioni. Adesso vi dico un po' molto velocemente cosa sono, così vi fate già un po' un'idea. La prima, che è quella anche più corposa, riguarda il funzionamento dei videogiochi, che qui non è una cosa tecnica, non è di nuovo un libro di game design, ci sono cose apposite su quello, ma ho preso dei videogiochi significativi da cui tirar fuori appunto tutta una serie di discorsi che sono stati impattanti per il medium videoludico. E quindi si parla del flow, si parla della Nishikado Motion con Space Invaders, si parla delle forme di difficoltà videoludiche che troviamo, in quel caso l'ho legato al primo Resident Evil, si parla del sistema di looting, lootbox e quant'altro, partendo anche lì da giochi del passato. Ecco, per esempio, anche tutto il sistema delle coperture, la questione dei generi videoludici, partendo da Doom, in quel caso, che fa un discorso molto interessante appunto su come abbia fatto nascere lo sparatutto, prima ancora che il termine sparatutto esistesse, che arriva molto dopo, quindi anche questo fatto sulle definizioni che noi diamo a questi oggetti videoludici, eccetera, eccetera. Quindi questa prima sezione che è in ordine cronologico, ma appunto non sono tutti i giochi più importanti della storia, anche perché sarebbero migliaia, cioè davvero, fare una selezione sarebbe molto arduo, ci sono anche persone che ci provano e puntualmente c'è chi poi si mette a dire eh ma questo è più importante di quello, quindi non è un senso di importanza, è un senso di giochi rappresentativi di un determinato elemento, una meccanica, un'estetica anche a volte, tanti altri aspetti che appunto va a raccontarci qualcosa sui videogiochi, quindi in generale, quindi selezionando quello specifico titolo si va a fare un discorso più ampio, più differenziato e ne trovate tanti appunto, sia grandi classici del passato, sia videogiochi più recenti, sicuramente comunque molto noti, molto amati, Nier Automata per esempio, tanto per dirne uno. E poi ci sono altre sezioni, una è sui videogiochi indie, quindi di nuovo un ragionamento su come sia anche cambiato nel tempo questo concetto, questa etichetta di indipendente. E ho preso anche qui degli esempi significativi di varie fasi di questo processo, quindi si parla di vari giochi, adesso questi magari vi lascio anche scoprirli a voi, ma sono citati insomma i Tale of Tales, è citato Jonathan Blow, sono citati insomma nomi noti in quest'ottica. E poi ancora, videogiochi e il viaggio. Il viaggio, ecco, questo è un argomento che vedo appassiona molto, è chiaro, no? Cioè del resto ci troviamo in un contesto, quello della contemporaneità, dove si viaggia tanto ma in modo alla fine poco significativo, cioè tutta questa logica di un turismo da tour operator che ha smembrato, ha dissolto quella che era appunto la dimensione avventurosa del viaggio, la scoperta, che viene, una cosa che viene lamentata da molte persone in vario modo. Intanto di recente mi è capitato di citare l'inizio di Cuore di Tenebra, il romanzo di Conrad bellissimo, dove il protagonista dice che da piccolo si metteva a scrutare la mappa, il mappamondo, per vedere quegli spazi ancora bianchi, vuoti, non esplorati e immaginare tutta una serie di storie. Adesso tutto ciò è sparito e quindi anche per questo diventa tanto più significativo vedere in che modo il videogioco declina questa dimensione del viaggio che ha una componente antropologica fortissima, insomma si lega davvero molto a quella che è la natura umana stessa preso in vari modi e quindi abbiamo anche lì esempi di turismo videoludico alla fine e abbiamo tante altre forme di viaggio che ci rimandano a volte verso l'epica, a volte verso quello che è il viaggio della vita e tanto altro ancora. E poi ancora i videogiochi e l'Italia, visto che siamo appunto in Italia, i lettori di questo libro saranno italiani e quindi valeva la pena approfondire un po' anche questo discorso in termini di rappresentazioni che vengono fatte del nostro paese e anche di giochi fatti in Italia, a parte Assassin's Creed 2, dico anche un altro esempio che ovviamente è stato anche in quel caso molto interessante per la scelta di certi luoghi, tutto il discorso, anche il turismo verso Monteriggioni e tanto altro. E poi giochi anche meno noti forse a un pubblico più ampio, per esempio Anna, questo videogioco dei Dream Painters del, mi sembra 2011, comunque era inizio 2010 come periodo, che è un videogioco che affonda le sue radici nel folklore e nelle tradizioni della Valle d'Aosta. E poi abbiamo anche giochi un po' particolari, forse inaspettati, come Call of Salvini, che è stato comunque un elemento significativo di quello che è lo sviluppo videoludico in Italia e anche della rappresentazione di quella che è una parte del nostro paese, con tutto un discorso, che va verso quella che è l'ambito dell'antipolitica. Quindi anche in questo senso si va volta per volta, partendo da un videogioco, a esplorare tutto un dintorno, quindi anche in quel caso Call of Salvini, preso come esempio, ma poi vengono citate diverse altre cose, diverse altre esperienze, vari topolino amico delle guardie e dintorni, così come Anna ci porta verso tutta una serie di videogiochi che invece mostrano appunto delle micro storie di periferia, anche cioè lontano da quei grandi centri che sono quelli che interessano il videogioco all'estero. Quindi sì, da un lato abbiamo appunto le varie città come Venezia, che compare in Final Fantasy XV, che compare in Venetica, che compare nella stessa serie di Assassin's Creed e molti altri casi, quindi sono quei grandi nomi noti al turismo internazionale, che attirano ogni anno migliaia, centinaia di migliaia di persone che dall'estero vengono a visitare il bel paese, e fanno alla fine un po' una versione contemporanea, in molti casi, di quello che era il Grand Tour, questo viaggio nobiliare che veniva fatto, che alla fine seguiva sempre lo stesso percorso, con minime variazioni, e quindi anche qui uno viene e vede un po' sempre le solite cose, in molti casi, un po' seconda volta magari di quello che è anche la moda del momento lanciata dall'influencer di turno, però salvo queste cose più o meno sono quelli i nomi, quindi è bello invece vedere quando dei videogiochi vanno a esplorare queste località di periferia, queste micro storie di periodi del passato, per esempio appunto di un paesino come Periasc in Valle d'Aosta. E poi ancora i videogiochi autobiografici, anche qui un altro punto che per me era fondamentale trattare quindi il videogioco come mezzo, come strumento per raccontare se stessi, il proprio vissuto, che è stato anche in molti casi, è diventato nel tempo uno spazio di racconto anche per persone che magari vivono ai margini, che hanno delle esperienze particolari per vario genere, in vario modo, e che sentono il bisogno di andare a raccontare questa cosa attraverso di nuovo quello che è un videogioco. E quindi anche qui abbiamo esempi un po' più noti, ma comunque non parliamo ecco di titoli famosissimi come Papo e Joe, bellissimo videogioco, mi capita spesso di citarlo, di questo autore che racconta appunto del suo rapporto con suo padre che era un alcolizzato. E rivive, riracconta tutto questo e ce lo fa vivere a noi attraverso un viaggio onirico, una sorta di favelas di sogno, questo bambino che ha un rapporto con un mostro che sarebbe il padre e tante altre cose. Ma anche videogiochi molto meno noti come Curtain, che racconta di una relazione tossica. E noi viviamo in una relazione tossica e il videogioco è anche visivamente fastidioso da vedere. Probabilmente se lo guardate dopo un po' a schermo intero, fissi, con gli occhi sullo schermo, iniziate a stare male proprio fisicamente. Ed è l'idea voluta di chi ha creato questo gioco per far rivivere quell'esperienza che in quel caso non era totalmente autobiografica ma partiva comunque in modo molto forte dal vissuto personale della sua autrice e quindi rientra comunque sicuramente in quest'ottica. E poi ancora sezioni come videogiochi e cinema e videogiochi e letteratura. Quindi in che modo il medium videoludico dialoga con altre due arti, con altre due forme espressive, tra quelle principali, più note, più seguite, più amate, anche che hanno un riconoscimento, diciamo in tanti ambiti, superiore a quello del videogioco. Non tanto poi perché ci sia un qualcosa di oggettivo spesso, ma per tradizione. È chiaro che hanno più anni alle spalle, la letteratura non ne parliamo, ma anche il cinema ha avuto un tempo maggiore di sedimentarsi. Sicuramente quindi sono visti in modo diverso. Quindi c'è un appunto uno sguardo differente. È chiaro quindi che diventa interessante vedere in tanti modi come il videogioco ha attinto al cinema e alla letteratura, ma anche il contrario. Quindi anche quando è stato il videogioco invece a dare qualcosa, a dare impulsi, linfa a questi mondi. E quindi anche qui si prendono alcuni discorsi esemplificativi. Si parla di machinima, si parla di film come Elephant di Bansant, si parla di romanzi come Skill di Alessandra Contine, ma si parla anche per esempio di discorsi un trasversali come in che modo Dante è finito poi nei videogiochi. O Lovecraft, quindi figure molto presenti della letteratura, molto impattanti, ciascuno a suo modo, ciascuno in vari contesti, con varie modalità, che sono entrati nei videogiochi. Ecco, tra tante altre cose dell'immaginario contemporaneo. Quindi questo è un po' per darvi una breve panoramica, ecco, su quelli che sono i contenuti, almeno su quelle che sono le sezioni. Poi vi lascio un po' scoprire quelli che sono i vari titoli che compongono questo libro, almeno quelli principali. In realtà se guardate la copertina alcuni li vedete già lì, poi vi invito comunque a dare un occhio, guardate un po' le anteprime che dovrebbero comparire, penso, su Amazon e dintorni. Andate in biblioteca e libreria, sfogliatelo, acquistatelo, chiedete, guardate e compratelo così. Giustamente poi avete anche questo oggetto, questo feticcio, che certo non sarà Cthulhu il signore delle coccole.